Benvenuti in questo nuovo video di Pokemon Rosso Fuoco, io sono M8CM2 e oggi andiamo avanti con l'avventura Alla fine ho deciso di prendere Poliwag, dato che me l'hanno consigliato moltissime persone, moltissimi ragazzi del bus Che fanno testa, che vabbè comunque avete capito, vi saluto tutti quanti Saluto pure i ragazzi della fermata del bus che parlano come il venerdì poveriggio E poi, adesso il volume non ci sarà in questo video perchè qui c'è un mio amico che ha bisogno che aiutino E quindi lo aiuterò, è un'altra cosa, non prenderò però solo Poliwag ma prendono anche Machop Quindi ci vediamo al prossimo episodio, ci vediamo con questo episodio senza volume Da M8CM2 è tutto e... a tra poco Grazie 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 a tutti. Grazie a tutti.